buongiorno a tutti allora un altro video che mi avete richiesto oggi parliamo di qualcosina che riguarda l'esame aso quindi il giorno dell'esame aso eccoci qua allora quel giorno sicuramente sarà pieno di agitazione ed è normalissimo ed è sano che sia così perché comunque è un esame a tutti gli effetti tante volte mi chiedete come verrà svolto allora la modalità può essere decisa dai singoli enti fondamentalmente potremmo dividere due categorie tipiche di esami allora il primo è far pescare tipo maturità per esempio delle buste a un candidato scelto dove all'interno di queste buste ci sono quelli che vengono chiamati casi studio che cosa vuol dire vuol dire che magari c'è il caso studio faccio un esempio ovviamente di implantologia e quindi poi bisogna fare in tutto tempo un tema chiamiamolo così dove si parla di tutto quello che succede dal dalla prima visita a quello che è l'esame obiettivo l'esame strumentale i vari passaggi che ha fatto il dottore per arrivare alla diagnosi da lì poi la pianificazione del giorno dell'intervento e che cosa si prepara al giorno dell'intervento qual è il ruolo dell'aso il discorso della burocrazia per esempio i consensi informati poi si può attaccare a tutto quello che è protesico e così via quindi questa può essere una tipologia di test scritto poi normalmente c'è un colloquio orale che può variare o all'aver preparato una tesina quindi l'ente vi dirà in tempo ovviamente utile di dover preparare una tesina ed eventualmente vi darà un argomento oppure vi lascerà libero di sceglierlo voi l'inizio della parte orale può essere appunto un colloquio rispetto a quello che avete scritto su questa tesina e il consiglio mi raccomando preparatela voi spessissimo leggo a te la do io te la mando io io l'ho già fatta pago per averla allora innanzitutto gli enti seri fanno protocollare le tesine in regione quindi mi raccomando e deve essere frutto del vostro sudore ok anche perché ovviamente poi la imparate meglio a farla e non averla lì anche perché nella vita si si può chiedere un aiuto ma pagare per avere le cose non è neanche etico quindi se si vuole iniziare con questa logica mentalità più che altro insomma non so quanto si potrà andare avanti detto questo quindi una volta magari parlato della tesina possono attaccarsi a diverse domande ci sarà comunque sempre un tavolo con tante o meno strumenti attrezzature materiali che ci siano e quindi poi fare delle domande parliamo di parte pratica tra virgolette che ovviamente rimane teorico barra pratico l'altro gruppo invece di esami è un quiz quindi per lo scritto un quiz multidisciplinare a crocette o a domande libere e o crocette e domande libere e anche questo in un tot di tempo poi c'è comunque la parte del colloquio orale quindi o tesina o quello che riguarda magari delle domande libere senza aver preparato la tesina o aver preparato come per esempio succede con me un argomento a piacere e ovviamente poi in aula aiuto le persone a fare una scaletta cosa dire cosa non dire eccetera che però a scelta della commissione può essere chiesto piuttosto che non però è un valido asso nella manica qualora dovessero chiedercelo e poi arrivare quindi alla parte pratica quindi dicevamo un quiz multidisciplinare a crocette o mezzo mezzo un argomento a piacere se richiesto o meno o comunque domande multidisciplinare a livello orale e poi la parte pratica quindi andando a prendere materiali strumenti per esempio devo togliere il dottore magari vi dice devo estrarre un 16 mi prendi la pinza e tutti gli strumenti utili alla sutura eccetera eccetera quindi preparare diciamo un vassoio operativo e un altro consiglio che vi do è quando vi chiedono un elenco dei vassoi operativi mi raccomando andate sempre in ordine cronologico vi faccio un esempio pratico per esempio in conservativa vi chiedono appunto di preparare il vassoio magari partite da anestesia per poi arrivare al bonding che non è sbagliato ma tra l'anestesia e il bonding c'è un mondo se invece voi andate a livello cronologico di una cosa poi l'altra e poi l'altra quindi per esempio banalmente partire dal set da visita l'anestesia gli strumenti rotanti frese e quant'altro fino ad arrivare poi al controllo clusale che sarà l'ultima parte e poi ovviamente la lucidatura qualora il controllo clusale risultasse magari un pochettino alto in questo modo uno dimostrata la commissione di essere sul pezzo cioè di sapere esattamente che cosa preparare al momento giusto e secondo egoisticamente parlando non vi dimenticate i pezzi perché andando in ordine cronologico quindi ripensando a quello che avete studiato quello che avete visto in tirocinio ovviamente i pezzi non ve li dimenticate comunque rivolgetevi sempre al vostro tutor d'aula al coordinatore del corso quindi avrete sicuramente mi auguro una persona di riferimento che ovviamente vi dovrà dare tutte queste indicazioni magari non il giorno dell'esame ma abbondantemente prima in modo da sapere esattamente come verrà svolto il tutto detto questo se siete in zona esame vi faccio un enorme in bocca al lupo aspetto come sempre i vostri commenti l'iscrizione al canale e ci aggiorniamo al prossimo video buona giornata a tutti vi faccio un po' lupo aspetto a tutti Grazie a tutti